La stessa acqua. La porta della mattina è sempre aperta, perché so già cosa c'è oltre. L'abbonamento alla metro e l'orario d'ufficio. D'inverno la stessa acqua sotto le suole vicino al portone. Commento. Questo modo di interpretare il quotidiano è tipico della media evoluzione. Quando si amplia il proprio orizzonte intimo, si comincia a leggere anche la routine per il motivo per cui esiste, e cioè in chiave evolutiva.